Consigliere Bernardo, oggi intervenite su una questione che è già passata da tempo. Sì, è passata da tempo perché noi non eravamo a conoscenza. Siamo venuti a conoscenza giovedì, venerdì. Abbiamo fatto questo documento che spiega non tutto, perché ci vogliono almeno un'encecolpatia per spiegare tutti i malori che ci sono. E' che noi siamo stati pure offesi, che giustamente non sappiamo mettere l'accento sulla E e neanche l'H davanti alla O o la A. Voglio ricordare, non sono qua per dare una risposta, perché le risposte se le dà solo, perché Manganella quando parla, parla solo esclusivamente di Manganella. Io quello che voglio dire e voglio ricordare a questo sindaco, che non servono le accende sulla E se poi non si sa amministrare. Il discorso che voglio ricordare è che c'era un ex compagno di partito suo, un certo Lillabate, che non sapeva mettere l'accento sulla E, però sapeva governare. A noi non ci interessa la grammatica italiana, ci interessa la concretezza. E su questa cosa qua, se vi posso permettere, voglio dare un consiglio a questo sindaco Manganella. O tacere è virtù, è un'idea di tutti. Sapere dare una risposta è una bell'arte, ma se uno dona una risposta a tutti, per dosenno a virtù è l'arte. Su questa cosa vi chiedo sicuramente di riflettere. Un consiglio, se mi posso permettere di darlo. Solo questo, perché non voglio alimentare altre polemiche.